I pensieri e le considerazioni degli studenti di alcune scuole cesenati sono stati raccolti nel libro di Giuseppe Mazzini, dei doveri dell'uomo. Questo nuovo volume è stato ristampato e presentato nella sede del Partito Repubblicano. Mazzini è stato uno che ha amato molto i giovani, ha creato la giovane Italia, la giovane Europa, anzi nello statuto aveva messo che non potevano frequentare quelli che avevano superato i 30 anni, quindi era senz'altro uno che guardava la gioventù in un modo particolare. Oggi c'è proprio bisogno di riprendere le parole e le esplosioni di Mazzini perché questo culturale si sta convertendo a chi ha delle belle parole, il testo e l'esperienza, la congiunga mazziniata, far così queste forze proprio a partire dagli individui. Il ruolo dei ragazzi è stato sicuramente un ruolo attivo perché è proprio da loro che partono i commenti ai doveri dell'uomo di Giuseppe Mazzini e credo che sia importante per le iniziative culturali che i giovani vivono queste iniziative da protagonisti. Si parla di doveri, si parla di diritti, sono degli elementi di cui oggi si sente la mancanza e noi come Will siamo stati lieti di poter contribuire alla realizzazione di questo libro.